Virtualmente chiusa l'operazione con la Vibonese per Antonino De Marco, classe 2004, 19 anni ancora da compiere al team calabrese soldi e il 15% sulla futura ribendita. De Marco, giovane di prospettiva, espressamente richiesto da Zeman, consigliato da Giacomo Modica, che la scorsa stagione ha allenato la Vibonese forgiando le qualità del ragazzo. De Marco è un elemento duttile, può infatti giocare sia da mezzala che da play. Annuncio atteso all'inizio della prossima settimana, De Marco firmerà un triennale. Prima punta, a prescindere da Vergani, la scelta è tra Tommasini e Spalluto. In entrambi i casi manca però ancora l'intesa con le rispettive società Pisa e Fiorentina. C'è invece l'accordo con gli agenti Ferrari e Branchini, sempre per il reparto avanzato, massimo riservo sul 2002 straniero che non gioca in Italia. Colpo alla raffia, così come lo ha definito in conferenza stampa il presidente Sebastiani. Difesa, centrale mancino, riapertura di Claudio Vigorelli per il suo assistito. Lorenzo Lucchesi, classe 2003, la scorsa stagione protagonista con la primavera della Fiorentina. 27 presenze, ben 5 gol da urlo, la solo nelle immagini al novantesimo del match con Bologna di fine campionato. A lungo inseguito da Delicarri sembrava sfumato per l'inserimento di un club di Serie B francese. Oggi la situazione sembra essere di nuovo cambiata. Lucchesi arriverebbe condizionale, quanto mai di rigore, in prestito secco. Ufficializzato intanto Denis Manu, altro giovane di prospettiva, italo-ganese, classe 2003, ruolo mezzala, lo scorso anno in evidenza nel Matera in Serie D. 31 presenza, 3 gol, 2 stagioni orsono nella primavera del Brescia. Non ci sono sviluppi circa Romani Mussolini, ventenne terzino destro di proprietà della Lazio, così come sul 22enne Edoardo Pierozzi della Fiorentina. Mora ai saluti, malgrado il tentativo di persuasione operato dai dirigenti. In questo caso ci sarebbe l'affondo per Daniel Sannipoli della Tina.